Il principe William e suo padre, il principe Carlo, hanno tenuto accese conversazioni sul futuro della monarchia. Ha detto un esperto reale a Express.co.uk. Il duca e la duchessa di Cambridge la notte scorsa hanno portato messaggi royal family di congratulazioni alla ragazza d'oro della Gran Bretagna Emma Raducanu. La diciottenne Raducanu è diventata la prima qualificata a vincere un importante torneo di tennis vincendo gli US Open senza perdere nemmeno un set. L'account ufficiale di William e Kate ha twittato pochi minuti dopo la sua vittoria. Enormi congratulazioni Chiocciola Emma Raducanu per le tue straordinarie prestazioni e la storica vittoria del grande slam. Incredibile. Siamo tutti così orgogliosi di te. Si sono anche congratulati con l'avversario di Raducanu, Leila Fernandez, per i suoi eccezionali risultati. La regina, nel frattempo, ha inviato una calorosa lettera di congratulazioni che è stata consegnata personalmente a Raducanu dal suo rappresentante a New York. Mentre l'intera famiglia è chiaramente d'accordo sulla storica vittoria di Raducana, un esperto reale ha detto a Express.co.uk che ci sono frequenti liti dietro le quinte. Howard Hodgson ha spiegato. Il principe Carlo è molto desideroso di snellire l'entourage reale e la famiglia reale e il suo fulcro, in modo che siano davvero la regina, lui, il duca di Cambridge e poi George e così via. Quindi questo è un ascendente diretto. Aveva avuto quei piani, li aveva già fatti e credeva che quella fosse la strada giusta da percorrere. Il potere dietro il trono, ormai da molto tempo, è stato il principe di Galles e nessun altro. Punto. Fino a forse dieci anni fa, il duca di Edimburgo aveva molto da dire su queste cose. Ha aggiunto che il motivo per cui la regina è un monarca di tale successo è che è molto compiacente e ascolta ciò che i suoi consiglieri vogliono fare. La visione di Carlo per la monarchia vedrà i reali più minori e marginati in qualche modo. La regina ha compiuto 95 anni all'inizio di quest'anno e sta iniziando a fare un passo indietro da alcuni incarichi reali di alto livello. Si baserà in modo più permanente al castello di Windsor al suo ritorno da Balmoral.